we are you bentornati e continuiamo con questa sfida tra fratelli forse sì sì una sfida tra fratelli prima finiamo col dottore prima si va a dormire se vi siete persi gli altri episodi se vi siete persi gli altri episodi lo troverete o sia la live sia l'episodio in alto a destra tra le schede la playlist della live cosa dai 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 sì 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 dai che lo voglio lo voglio vabbè guarda di qua va scusate eh sì è arrivato prima il mio fratellino va vabbè una cosa che voglio scusa fratellino sono zuppato i bull vabbè i fratelli auditori come mai la cosa non mi sorprende ci cacciamo sempre dei guai scusa ma fottiti grazie 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 ottimo medici bene 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 ok andiamo di qua andiamo via di qua dove dai dai forza ecco questo è tutto vorrei che fossero tutte così dire commentate condividete cosa aspetta ma lo sono meglio tornare a casa e si è nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto già vorrei evitarmi la ramanzina ti va una piccola gara così fin dove il tetto di quella chiesa ok io vado per di qua scusate al mio 32 c'è un scusate è solo l'imbrogliore mi spiace vinci la corsa mi sento quasi in colpa non c'è nulla di male a perdere fratello eh sì mi sono proprio in colpa ho imbrogliato proprio dritto dritto alla chiesa scusate vabbè 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 che ottimo vabbè queste sono chiuse l'unica aperta è questa qua grazie dammi una mano bello oh bella vita la nostra eh fratello eh sì troppo bella e possa non cambiare noi ecco qui assassin's creed 2 great collection in effetti credo che continueremo va bene adesso basta dobbiamo tornare a casa andiamo aspetta sì eh che c'è Ezio lascia dormire Cristina avrà tutto il tempo per farlo dopo sì eh mmm sì e con... è sempre questa... beh commentate... beh... lasciate nei commenti se l'episodio vi piace ah signalizzazione in effetti e noi continu... continueremo e andremo dalla nostra... Cristina mmmm 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 c'è uuuuuuuu no cacchio meglio nascondersi cercate bene non può essere molto lontane dai 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 vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua dai andiamo ta 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 ogni tanto vamo là sì io vado di qua non ci credo sta buono con questa cosa avete visto anche voi? no no per ordine della signoria quale signoria? tutti mercanti che commerciano in lana grezza saranno da reinanzi ulteriormente tassati della centesima parte di ogni transazione perché? questo per mantenere l'esercito della repubblica e inanziare... Cristina! Cristina! siamo arrivati ehi bella Africa solo io oh Ezio dovevo immaginare posso entrare? ma bene ma solo per un minuto un minuto? forse davvero? non intendevo in quel senso si eh che burlone ah ciao vieni qui ah ah Ezio eh ci baciamo se ci sono bambini non guardate meglio che non guardiate eh eh sì meglio che non guardiate ops il tempo è volato oh Cristina! 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 oh cavolo ops mi sono dimenticato del padre vabbè eh ops porco demonio porco demonio ma che dici? te volo eh why you? io ti ammazzo no no non è necessario guardia 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 ora non c'è bisogno di ricorrere alla violenza vabbè vabbè eh no vabbè basta te la fai sotto? eh sì questo sta beccando un bel grugno sto grugno vogliamo aprire le danze ma che cosa eh no basta basta eh non attacchiamo le spalle eh no una cosa sono quasi innocenti quasi eh sì ci siamo beccati un bel po' di grano e credo che con questo forse tenuta da notte grazie eh sì noi ci pigliamo questa e credo che con questo sia tutto commentate condividete e iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima ehm e lasciate un bel like all'episodio se vi è piaciuto seguitemi su facebook twitter e instagram ciao a you alla prossima ciao